Benvenuto sul mio canale YouTube, ti invito a cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti che ogni settimana pubblico. Oggi mi dedico ad una lezione di Pilates Fundamental, quindi come esercizi sono esercizi base, questo non vuol dire che sia semplicissimo perché in base alla individuale capacità di movimento e quindi di reclutare la muscolatura anche gli esercizi base diventano molto intensi, è tutto molto soggettivo. Andremo a ripeterli nella loro sequenza ma il mio focus oggi sarà il flessore dell'anca, quel muscolo che quando non è abbastanza allenato o quando è troppo retratto crea degli squilibri tra lì nella zona lombare e nell'anca che causano varie difficoltà, diciamo così. Ti faccio iniziare proprio in questa seduta, sono seduta sui talloni, però mi muovo di lato, mi metto di lato così tu puoi vedermi più facilmente nel movimento. Ascolto gli ischi che sono quella parte del bacino su cui sediamo, le ossa qua sotto al bacino e sono poggiate in questo momento sui miei talloni. Se sono rilassata questa è la forma che prende la mia colonna vertebrale in questa posizione. Ora comincio a muovere il bacino e sento gli ischi che si muovono contro i talloni. sto basculando con il bacino in avanti e indietro. Avanti e indietro significa che le creste iliache, che sono le due ossa, due punti qua in alto del bacino, si muovono in avanti e indietro. Si dice retroversione quando le creste iliache vanno indietro, si dice antiversione quando le creste iliache vanno avanti. Continua questo movimento e ascolta tutto quello che contrai e tutto ciò che tira quando tu lo esegui. Per capire il movimento che stai eseguendo immagina che il tuo bacino sia un catino. Adesso mi alzo sulle ginocchia per farti comprendere ancora meglio. Se il bacino è un catino, fosse un catino pieno d'acqua, quando vado in antiversione esce l'acqua dal bacino nella parte anteriore, le creste iliache sono andate avanti. Quando riporto il pube e le creste iliache sullo stesso piano orizzontale, il bacino è in una posizione neutra, l'acqua resta dentro. Quando faccio retroversione, porto le creste iliache indietro, l'acqua dal bacino esce dalla parte dietro della schiena, retroversione. Quindi questo basculare, questo muoversi del bacino, lo definiamo così. Quando è in avanti antiversione, quando è indietro retroversione, quando è nel mezzo si chiama posizione neutra del bacino. Vada bene che neutro è proprio quando sono centrata, perché se porto un anca avanti, l'acqua non esce dal bacino, però è inclinato verso sinistra oppure verso destra. Quindi le mie creste iliache vanno in una direzione. Se le giro verso sinistra, porto avanti l'anca destra. Se giro verso destra, porto avanti l'anca sinistra. Cerca di percepire quello che stai facendo. Quando ruoti il bacino più da una parte rispetto all'altra, senti che un gluteo si contrae più dell'altro, perché è proprio il gluteo che distende l'anca, quindi spinge avanti quel lato del bacino. Quindi a questo punto posso andare in retroversione, in antiversione, in torsione verso sinistra, in torsione verso destra e ancora in antiversione, in retroversione, in torsione a sinistra, in torsione verso destra. Il bacino quindi può anche disegnare dei cerchi, mescolando queste posizioni. Immagino che il mio osso sacro vada a disegnare un cerchio sul tappetino, sul pavimento. Sto facendo una circonduzione in senso orario. Mi fermo e cambio direzione in senso anti-orario. Probabilmente una delle due circonduzioni ti è più facile, per me è più facile in senso orario. Quindi andare a stimolare la muscolatura nel lato opposto, in quello un po' più difficoltoso, migliora la mobilità del bacino, in questo caso, quindi delle anche. Ancora tre, due, uno. Un'altra cosa molto importante per liberare le anche, come dicevo prima, è lavorare l'eliopsoas. Nella retroversione, senti tirare qua davanti, c'è l'opsoas che è messo in stretch, e noi adesso lo andiamo a fare con il piede destro poggiato per terra avanti. Mantieni il piede destro sulla destra del tappetino, così come il ginocchio sinistra è invece a sinistra del tappetino. E cerca la stessa mobilità di prima, con una gamba a terra, con un ginocchio a terra e un piede a terra. Sentirai che è diverso perché l'esercizio non è uguale da entrambi i lati. Ti fermi al centro, scendi le spalle e scendi le braccia, alza la punta del piede, comincia a premere con il ginocchio dentro il pavimento e cerca il tuo equilibrio in questa posizione, possibilmente appoggiando il meno possibile il tallone. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Riappoggi, porti le mani ai fianchi e cambi gamba. Giù la gamba destra, porti avanti il sinistro. Due binari differenti per i piedi. Anche qua andiamo a mobilizzare l'anca, andando con il bacino in anti e in retroversione. Poi mi fermo, resto, ho raddrizzato la gamba dietro che non era dritta perfettamente, alzo la punta del piede, scendo le braccia per aiutarmi e comincio a sollevare il piede da terra. Le braccia servono per controbilanciare, io resto in questa posizione per dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. E riappoggio. Lascio. Adesso sentirai che le anche sono sicuramente più libere. incrocia i piedi, forta li avanti e andiamo a lavorare con il primo esercizio. Il primo esercizio del metodo che uso ultimamente è un pelvic curl. Stessa concezione dell'allineamento del bacino, del neutro del bacino che abbiamo visto prima da sedute, le creste iliache, pube, sono tre punti che devono stare sullo stesso piano orizzontale. Allora appoggio le mani su questi punti, quindi la base del pollice contro la cresta iliaca, la punta del dito medio sul pube e basculando col bacino cerco di sentire come lo sto tenendo. Anche se ho un'anca più alta dell'altra, devo rendermi conto. Quindi mi fermo col bacino cercando una posizione neutra con i tre punti sullo stesso piano orizzontale. Adesso i piedi dapprima li metto uniti, distanti dal mio bacino, circa un piede e poi non resto con le gambe unite ma distanzio i talloni e le punte all'incirca la distanza, la larghezza di un pugno, diciamo così, e le ginocchia sono allineate ai piedi. Quindi devo sentire le dita dei piedi a terra, la pianta del piedi a terra e le ginocchia allineate. Sono in posizione neutra e le costole a pilates si tende sempre a tenere il costato in fuori, invece metti le mani sulle costole e fai una bella espirazione e porta in dentro il costato. Devi sentire che il tuo addome ha una contrazione omogenea, armoniosa di tutta la muscolatura del ventre. Non c'è la pancia in dentro con le costole in fuori perché sarebbe un disequilibrio. Porta in dentro con le spalle lontane dalle orecchie. A questo punto, se spingi i piedi, senti attivare i glutei. Spingi, lascia, spingi, lascia, spingi, lascia. Mantieni la spinta con le ginocchia in linea con i piedi. I tuoi addominali sono già al lavoro. Comincia con attenzione ad alzare il pube, non spingere la zona lombare contro il pavimento, ma inclina il bacino e poi sollevi una vertebra dopo l'altra portando le ginocchia verso avanti. Le mani sono meglio a terra, le braccia belle lunghe e attive. gradualmente torni indietro una vertebra dopo l'altra senza premere le vertebre al suolo ma toccando il pavimento e recuperi il tuo neutro. E ancora fuori l'aria mentre vai, mantieni più che puoi svuotata la cassa toracica e ritorni gradualmente al suolo. Il respiro io preferisco che sia corto e costante proprio perché la contrazione degli addominali deve tenere il costato in dentro. E se ti stai domandando dove respirare, ti assicuro che il posto ce n'è. e adesso te lo insegno, te lo faccio sentire. Torniamo su, mantieni questa contrazione e vai con le mani alle tue costole e poi di lato. Ti dicevo, stai più svuotata dall'aria che puoi e vai con le ginocchia in avanti. Ora, quando respiri, il respiro corto e veloce, l'aria la metti sotto le tue mani di fianco e verso dietro. Quindi non c'è un sollevamento della parete addominale, ma c'è un allargarsi delle costole verso fuori. Il respiro non è forte, non è lungo e non è ampio, ma è corto e veloce perché essendo corto hai bisogno di fare più respiri. mantieni bene questo allungo e sentendo il respiro sotto le tue mani gradualmente torni al suolo poggiando anche il bacino in neutro. Non mollare perché è bene ripartire subito. Il respiro lo mandi contro il palmo della tua mano restando più che puoi vuota perché non stiamo correndo, non c'è un gran bisogno di espandere la cassa toracica. Fermati qui. Sto premendo i piedi a terra, le dita dei piedi a terra. Sto mantenendo in dentro le costole. Sto mantenendo leggere le zone, leggere le vertebre lombari contro il pavimento. alza il tallone del piede destro. Quattro volte. Appoggio, alzo, appoggio, alzo, appoggio, alzo, appoggio. Adesso alzo la punta del piede e la tengo alzata. La gamba si porta in table top. Questa sta lavorando attivamente col gluteo. ed ora l'anca destra si libera a scendere su. Il ginocchio resta sempre a 90 gradi e mantieni le costole ferme in dentro. Terza volta. Quarta. Facciamo sei movimenti. Quinta. E sesta. Table top. Dopodiché riappoggio il piede esattamente dove era prima. Premo col piede destro e vado ad alzare il tallone. Quattro. Sinistro. Tre. Sempre in dentro. Due. In dentro le costole. Uno. Appoggio il tallone e alzo la punta. Non ho modificato il mio bacino, non ho modificato la mia zona lombare. E adesso alzo questa gamba in table top col ginocchio a 90 gradi. Scendo per sei. salgo. È proprio la anca che lavora. Cinque. Quattro. Mentre il ventre fermo. Due. Le costole sono in dentro. Uno. E mi fermo su. Adesso sale anche la gamba destra e mantengo le costole in dentro. Scivolo con le braccia al suolo. Non lasciare allontanarsi le costole da questa posizione. E alterno la discesa della gamba. Vado prima di destra. Salgo. E poi di sinistra. Salgo. Di destra. Salgo. Di sinistra. Salgo. devi sentire che le vertebre lombari stanno sfiorando il pavimento. Non lasciando l'impronta ma sfiorando. L'ultimo di destra. L'ultimo di sinistra. Appoggio tutti e due i piedi lentamente ad un piede di distanza dal bacino alla distanza di un pugno. e adesso vado con le mani verso i piedi le costole sempre in dentro mentre sollevo le braccia ascolto le scapole contro il pavimento poi incrocio le dita e uso le mie mani come se fossero un cuscino. Da prima allarga pure i gomiti quanto vuoi ma non uscire con le costole mantieni le costole in dentro con l'addome poi alzi i gomiti all'altezza tale da vederli dentro il tuo campo visivo con la coda dell'occhio. Ho le costole già in dentro quando gli addominali sono attivi i piedi premono e le costole la contrazione addominale mi fa alzare con la parte alta del corpo resta qua la testa è come se spingesse sulle mani è appoggiata come un cuscino quindi è proprio appoggiata non ci sono i muscoli del collo che tirano non è il collo che tira con le mani che seguono sono le gli addominali che alzano la parte alta del corpo e la testa resta appoggiata alle mani quindi spalle lontane dalle orecchie restando in questa contrazione ho attivato le gambe i glutei gli addominali e adesso mantenendo il respiro corto e con la contrazione che ti ho insegnato prima alzo e scendo con la contrazione addominale per sei volte terzo cerco di stare sempre più vuota di aria che posso quarto che non vuol dire apnea no no vuol dire un respiro diaframmatico corto perché la contrazione addominale parte proprio da una contrazione del diaframma che si abbassa e resto qua mantengo questa questo sollevamento gambe ferme glutei belli stabili ruoto con la parte alta del corpo come se se avessi uno snodo e un zodo all'arbare e ruoto torno verso destra torno resto sempre sollevata ma la parte del corpo la parte alta del corpo ruota lateralmente e ancora destra scendo sinistra ultima volta destra centro e scendo gradualmente al suolo non mollare stacca le mani da dietro la testa mantieni l'addome in contrazione dita spalancate braccia appoggiate al suolo alzate non mollare le gambe non mollare l'addome e la stessa contrazione che abbiamo fatto prima ti porta ad alzare i piedi la punta quattro volte per favore tac e terzo e ancora quarto ora devi sentire i glutei attivi gli addominali che tengono dentro le costole stai sfiorando il pavimento mentre molto lentamente sollevi le gambe e porti lo stinco orizzontale in table top chiudi unisci le ginocchia proprio chiuse 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 ora la parte alta del corpo deve stare ferma a terra mentre il bacino andrà a ruotare immagina di essere una freccia con la parte alta bassa del corpo le tue gambe disegnano un triangolo una freccia perché si stanno chiudendo le ginocchia a spalle scese mantieni la contrazione addominale e il respiro corto e ruota questa freccia verso sinistra e ritorni non verso di te lateralmente verso destra e ritorni come una bussola che sposta la sua freccia verso nord verso sinistra e ritorni verso destra le due ginocchia non scivolano una sull'altra ma sono unitissime quindi non solo le gambe che girano verso destra verso sinistra ma è il bacino che ruota lateralmente e va a coinvolgere in un certo modo la colonna vertebrale l'ultimo verso destra ritorno al centro appoggio un piede per volta al suolo e scendo anche le mie braccia ora stendo le gambe sul tappetino porto le braccia in avanti voglio le mani con le dita larghe e ascolto le mie spalle a pavimento le scapole a pavimento sento cosa sto facendo con le spalle voglio le spalle lontane dalle orecchie quindi spingo le mani verso il piede le gambe le sto attivando e premo i talloni contro il pavimento si attivano anche i glutei alzo la testa e guardo i miei piedi resta in questa posizione e vai con le mani a toccare le costole in questa contrazione c'è un perfetto coinvolgimento della muscolatura addominale quindi le costole sono in dentro ed è proprio quello che devi cercare ad ogni contrazione addominale torna con le mani e adesso ascolta una vertebra dopo l'altra che si alzano e tu raggiungi una posizione di flessione in avanti stai in questa posizione io vado un po' indietro che sono fuori dal tapetino e in questa posizione fai così comprimiti come per diventare più piccola e poi mantieni la stessa flessione ma diventa più lunga più alta con le spalle indietro ancora immagina di accorciare di accartocciare la colonna vertebrale e poi di allungare la colonna vertebrale quindi con la testa come se tu volessi disegnare una linea più lunga della colonna e di nuovo ti accorci ti comprimi ti allunghi mantenendoti flessa un'ultima volta ti accorci e ti allunghi mantenendoti flessa adesso ritorna gradualmente verticale con la colonna porta in dentro bene le costole scivola in sotto con gli ischi e gradualmente ritorni a terra e giù sale con la testa il collo e le spalle stessa contrazione di prima mantieni le costole in dentro allungati in questa posizione non facciamo più quell'esercizio di comprimerci e allungarci perché siamo già allungate con la colonna e ritorno in verticale scendono gli ischi portando bene dentro le costole e vado al suolo gradualmente e scendo ritorno su è il terzo mi allungo spalle indietro e mi appiattisco con la colonna dopodiché vado gradualmente al suolo e di nuovo quarto cresco in altezza mentre mi arrotondo e mi alzo dritta poi scendo altri due subito quinto a salire io cammino un po' avanti perché stavo scivolando indietro sempre in dentro le costole e colonna lunga mi riappiattisco e poi scendo gradualmente e un ultimo salgo graduale una vertebra dopo l'altra in allungo ma flessa avanti poi raddrizzo e vado a scendere una vertebra dopo l'altra e mi fermo giù ora ascolta bene il tuo corpo contro il pavimento abbiamo lavorato prima il flessore dell'anca adesso lo lavoriamo nuovamente ti invito a tenere i piedi a martello entrambi non voglio la punta da ballerina se io sto rilassata questa è la mia posizione del torace comoda vedi che ho le costole che comunque si vengono sporgono un pochino mentre quando lavoro con gli addominali questa contrazione addominale deve portare le costole verso dentro e anche verso il pube parti già con questa contrazione come quando prima alzavamo la testa le spalle aperte e il piede destro lo sollevi con il ginocchio piegato a 90 gradi voglio il piede a martello l'altro anche l'altro cerca di allungare la gamba e preme il pavimento questo non mi interessa il ginocchio disteso ma questo tallone va verso l'alto tutte e due le gambe spingono in due direzioni differenti ora ruota il palmo in alto esci dal tapetino con le braccia e mantieni questa apertura contro il pavimento porta la gamba la gamba alzata ad incrociare l'altra anca senti cosa succede nel tuo bacino poi ritorna dritta ora apri verso fuori e mentre apri la gamba in fuori non alzare non basculare col bacino lateralmente e di nuovo dritta incrocia oltre il bacino resta sempre fermo è la gamba che si muove solleva e apri ne abbiamo fatti due adesso mi riporto a incrociare disegno un cerchio con questa gamba non troppo ampio cercando di mantenere fermo il mio bacino sei volte fuori l'aria fuori l'aria fuori l'aria fuori l'aria fuori l'aria fuori l'aria cambiamo direzione sei cinque quattro tre due uno bacino più fermo che puoi piede a martello e spingo in avanti e poi al suolo resta immobile e solleva la gamba sinistra il piede destro prema a terra questo vuole arrivare in alto non mi interessa il ginocchio teso mi interessa il bacino in posizione più neutra che puoi vai a incrociare la gamba in dentro sentirai forse tirare l'anca ma non devi sentire che si alza il bacino poi porti la gamba fuori sempre a bacino fermo ogni gamba esce in base alla disponibilità dell'anca e di nuovo vado a incrociare quanto più posso senza alzare il bacino vado ad aprire quanto più posso senza alzare il bacino torno dritta incrocio e facciamo sei giri sei cerchi per ognuna delle due direzioni ricordati le costole in dentro e uno due tre quattro cinque sei cambia direzione sei cinque quattro tre due uno gradualmente trovi torni in table top e spingi le gambe tutte e due al suolo in avanti comincia a crescere in questa posizione riporta le braccia in chiusura sali ancora una volta con la testa a ricercare la tua contrazione con in dentro le costole tira anche la punta dei piedi rimettili a martello porti le braccia avanti e sali gradualmente in una posizione estesa con la colonna avvicina i tuoi talloni prendi le caviglie e appoggia i piedi a terra ora da prima colonna estesa ci stiamo preparando per fare rolling like ball i rotolamenti poi mi interessa che tu vada a creare uno spazio qua tra le tue gambe e le costole non deprimendoti anche qua lo stesso esercizio di prima non mi deprimo ma mi allungo per creare più spazio con le spalle scese le punte dei piedi toccano a terra le ginocchia chiuse è come se qua ci fosse una palla che prende uno spazio mentre io cerco di arrotondare la colonna tieni presente che molte persone per arrotondare la colonna alzano le spalle perché si aiutano con i pettorali cerca di non farlo resta in questa posizione se puoi tocca solo con la punta delle dita dei piedi a me piace prendere i talloni e mentre rotoliamo non dovrai allontanare i piedi dal bacino resto nella mia contrazione collo lungo e vado e ritorno inspiro andando fuori a tornare terza volta cerca di rotolare senza schiaffeggiare il pavimento quarto quinto e il sesto e mi fermo di nuovo distendo la mia colonna dopodiché mi allungo e mi giro sul mio tappetino mi poggio completamente al suolo allora ti lascio la possibilità di avere il braccio sotto come un cuscino oppure il braccio disteso e appoggi l'orecchio sul braccio per avere la testa allineata perché se stai avanti con la testa o se stai girata verso l'alto la testa sarà in posizione scorretta sbagliata quindi devi proprio chiudere l'orecchio sul braccio la mano è qua davanti al seno se io sto rilassata vedi che le mie costole qua cercano di contatto col pavimento perché i muscoli non stanno contraendosi la forza di gravità mi porta ad appiattire il punto vita invece con i miei addominali devo tirare su le costole da terra premere il braccio , premere bene contro il pavimento ma tenere sollevate le vertebre le costole scusami lascia la mano qua comincia a pensare alle tue gambe le gambe andremo a sollevarle però prima sposta i piedi un po' in avanti verso il bordo del tapetino senza flettere la colonna vertebrale la colonna resta con la sua curva normalissima a questo punto ingaggiati gli addominali la mano al suolo la spalla aperta non è un lavoro di collo non è un lavoro di spalle ma è un lavoro di obliqui alza e scendi fuori l'aria fuori l'aria sai che il respiro terza volta te l'ho chiesto corto di mantenerlo corto quarta quindi cassa toracica vuota sesta il respiro è corto e veloce ma soprattutto la contrazione favorisce l'uscita dell'aria recupera le ginocchia ti porti dall'altra parte io sto facendo solo sei ripetizioni per ogni esercizio ma sai che le ripetizioni possono aumentare anche a 12 è un buonissimo allenamento io lo faccio solo per una questione di tempo quindi mi sento allineata appoggio l'orecchio il braccio preme il pavimento gli addominali alzano già le costole per partire un buon equilibrio anche porto i piedi un po' avanti verso il bordo del tappetino senza modificare la colonna vertebrale questa mano è qui recluto tutti i miei addominali e 6 5 4 3 2 e 1 2 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 12 11 12 13 13 15 16 19 20 20 21 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25 26 27 28 28 29 29 30 29 30 30 30 00 43 43 45 42 43 45 45 46 45 47 48 e ritorno quarta volta sempre allungando ritorno quinta addominali più di tutto e sesta lascio posso appoggiare la fronte sui miei avambracci e riposare un bel respiro a questo punto mi giro mi porto di nuovo con la schiena al suolo io mi rimetto di qua e resto qualche istante ad ascoltarmi in questa posizione proprio ascolto del corpo niente altro ho rilassato anche le gambe rilassato le braccia dopodiché ti invito a piegare le gambe riportarci nella posizione iniziale ti ricordi abbiamo iniziato seduti sui talloni ascoltati ora e facciamo di nuovo un po di mobilità del bacino come all'inizio anche a fine lezione quindi sali in ginocchio io mi giro di fianco e in ginocchio vai a muovere in retro e anti-versione e prova a sentire cosa c'è di diverso da prima perché prima perché prima quando provavamo ti sarai accorto di quanta mobilità hai nel portare il pube piuttosto che le creste liache avanti e indietro e anche quanto riuscivi a muovere in torsione il bacino rispetto alla tua posa iniziale prova a sentire la differenza rispetto a prima poi avevamo fatto anche i cerchi col bacino ti ricordi come se l'osso sacro potesse disegnare un cerchio contro il pavimento in una direzione e anche nell'altra la differenza se hai contratto tutto bene come chiedevo la sentirai sicuramente te ne accorgerai ancora di più in posizione eretta camminando comunque facendo del movimento e basta la lezione termina qua io ti ringrazio di averla seguita ti ricordo ancora di cliccare iscriverti al mio canale e trovami anche su instagram e sui social dove pubblico anche la altre cose interessante anche per altre discipline perché mi occupo anche di yoga e di posturale quindi trovi altri video altre lezioni che possono interessarti grazie di aver partecipato alla prossima buona giornata grazie a tutti